Critiche nei giorni scorsi da parte di Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna riguardanti i dati del turismo. Dati considerati non soddisfacenti, visto il calo dell'1,4% delle presenze turistiche. Disastroso, secondo Lista per Ravenna, è anche il confronto con l'intera regione Emilia Romagna, le cui presenze sono aumentate del 4,7%, mentre Ravenna si ha registrato un aumento dell'1,8%. Lista per Ravenna ha continuato l'attacco, definendo l'ultima stagione, una disfatta turistica di una quasi capitale europea. Ancisi e Spadoni hanno parlato di disfatta di Ravenna, come risponde in quanto assessore? Io posso capire che stiamo scaldando i motori per la campagna elettorale, però quando si parla della nostra città io inviterei tutta la politica a moderare i toni, perché nel momento in cui si criticano le scelte di un'amministrazione o dell'assessorato è giusto che l'opposizione parlino e facciano anche le loro proposte, però nel momento in cui parliamo di Ravenna, parlare di una disfatta che poi assolutamente non c'è stata e lo dimostreremo oggi con i dati, anzi c'è una tendenza di consolidamento positivo nel nostro territorio, però è un linguaggio che viene esagerato e che può far male alla nostra città, che è comunque tra le 20 principali destinazioni d'Italia, ricordiamo che l'Italia è ancora uno dei 5 paesi per presenze a livello mondiale, quindi il turismo di Ravenna non è assolutamente alla disfatta, quindi attenzione quando si abbinano questo tipo di termini qui al nome della nostra città o delle nostre località.